Dopo che ti sei sentita un ciocchetto che non mi vai attento, che non riesci a capirne niente di quello che ti spiego, così anche dopo dieci giorni di allenamento, come ti senti? Molto più sciolta, più consapevole del mio corpo, grazie a me. E tu? E io sono felicissimo, sto costruendo il mio Pinocchio. Bravo, Mastro Geppetto.